Mio Culli, imprenditore, regino, prossimamente si andrà a votare alle regionali, lei ha una passione per la politica e cosa la spinge a essere candidato? La passione per la politica è che abbiamo fatto sempre da ragazzo, bisogno di interessato di politica, non attiva, certamente è la prima volta una mia candidatura, una piccola esperienza in un comune piccolo di notte da Giovanni, molto tempo fa. Abbiamo cercato sempre di contribuire alla riuscita di un'amministrazione sia regionale sia politica, però ho sentito adesso l'esigenza a questa età di scendere in campo. Perché scendere in campo? Perché abbiamo visto negli ultimi anni, 20-30 anni, un'escalation all'indietro della politica, delle attività amministrative sia del comune sia della regione stessa, a livello anche nazionale e sentendo delle capacità di poter essere utile alla causa e politica e amministrativa di un ente, ho sentito il dovere, il dovere di coinvolgere rigidamente i giovani e far capire che fare impresa a Reggio Calabria e in Calabria è possibile. E se non sei dentro un sistema come la politica regionale o anche l'amministrativa, quella della nostra età, non riesci a incidere. Perché veniamo a considerare solo degli imprenditori e basta, tutte le nostre idee vanno prese in considerazione con gli imprenditori. E allora, accortami di questo, ho sentito il bisogno di scendere in campo e cercare di arrivare in quelle stanze, chiamiamola segrete, perché non ci hanno mai fatto partecipi di certe decisioni, portare la mia esperienza di imprenditori di un'azienda a più di 40 anni sul mercato, con altrettanto dipendenti, circa 60 dipendenti, di portare la mia esperienza al beneficio del territorio, dei cittadini. E più che altro coinvolgere i giovani e fargli ricredire che la politica è una cosa seria, come l'ho fatta sempre io, e che non mi sono mai scoraggiato a fare compagna elettorale per l'uno e per l'altro, però non avendo avuto risposte tutti questi anni, che ripeto, ho detto prima quelle famose stanze segrete, chiamavano da piccoletti, certamente, non siamo mai stati venuti in considerazione oppure interpellati dinanzi a una decisione che si doveva assumere. Dunque, l'obiettivo principale che è in questa esperienza è quello di coinvolgere questi giovani. Giovani che li stiamo coinvolgendo, li abbiamo coinvolgono, giovani che non credevano più nella politica e si stanno ricredendo, ma più che altro perché forse, sicuramente trovano nell'imprenditore, un imprenditore che, come me, iniziato proprio da niente, quasi da niente, ha creato un'azienda, perciò in Calabria è possibile fare inizio. Il mio primo obiettivo è quello di creare, appena eletto, uno sportello dei cittadini dove, che utilizzi, metteremo una persona esperta in bandi, finanziamenti europei, finanziamenti governativi, regionali, quello che è il signore, metteremo al servizio del cittadino e del cittadino più dell'imprenditore, che ha delle idee, l'imprenditore ha delle idee, però poi, nel momento di fare il progetto, magari imbatte in mani poco esperte e questa sua idea va a fungere, invece noi dobbiamo mettere uno al servizio dello sportello dove, laddove lui dovesse avere un'idea, stamattina si alza, voglio creare questo, voglio rinnovare la mia attività, deve sapere già, in quel momento che impulserà quello sportello, se c'è qualcosa in atto, se c'è un finanziamento e laddove lui non dovesse avere dei supporti per portare avanti questo progetto, noi saremmo in grado anche a mettere in attività una struttura. Non è tanto far arrivare i soldi in Calabria, perché i soldi in Calabria arrivano, il problema è farli rimanere. L'obiettivo mio è quello di farli rimanere i fondi che arrivano, utilizzarli più possibili, più possibili tutti i fondi che arrivano in Calabria. Ecco, perché votare Nino Gullì? Perché è il nuovo, è la politica, è il cambiamento del sistema? Sì, io votare Nino Gullì perché in effetti è la prima volta che mi scendo in politica, sono il nuovo, lo faccio da imprenditore, non ho altro interesse che non lo sviluppo del territorio, non altro che il bene del cittadino, perché se si sviluppa il territorio si sviluppano le aziende. Io ho anche un'azienda, posso dirlo anche egoisticamente, ma non è così, ma dietro la mia azienda ci sono anche 60 famiglie, c'è un indotto. Se si sviluppa il territorio lavoriamo tutti, campiamo bene. I giovani hanno motivo di restare qua e non le donne che studiano, li mandiamo a scuola, li facciamo preguntare università anche di livello e poi li perdiamo, stiamo perdendo i nostri figli. Gli ultimi anni 4-5 milioni di giovani sono andati via.